Aaaaaaaaahhhh Mi fa la battaglia mentre poi fai il video Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah l'inizio Gat Vai da un baciolo Ciao a tutti ragazzi io sono Corydan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio parlare di Age of Sigmar, vi voglio parlare Un po' di Age of Sigmar Intanto c'è la gatta che muove la telecamera Sta per apparire, sta per apparire Ok, ecco Sto passando un muso Vedete un bucio di culo di gatto nel frattempo Che è molto interessante al fine del video Bolla Bolla Comunque vi volevo parlare un pochino di Age of Sigmar Perché nel video precedente Vi avevo parlato invece di OnePageRules Che è Un sistema di regole gratuito Con una versione anche premium Che va a prendere I maggiori wargame Tipo Bolt Action, Warhammer, Fantasy Warhammer, Age of Sigmar, 40.000 Star Wars e tanti altri E cerca di farsi un regolamento suo Molto più veloce, molto più snello E diciamo alla portata di tutti No, amore sta ammazzicchiando il microfono Si sente ASMR Madonna del gatino Maio, maio Maio, tutto panciato Aaaaaah E' il video Ahahah Maio, cazzo Morrigan No 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 Ahahah Maio mi aiutai No Maio, no Morrigan No Maio, con tutto il casino Tagli Ve ne parlo a breve dopo la sigla Warhammer Age of Sigmar della Games Workshop In questo regolamento che vedete qui davanti Warhammer Age of Sigmar In questa versione davanti che vedete cartonate da collezione Che era all'interno della scatola di dominio E che la gattina mi sta distruggendo e ti taglia l'orecchio Date lo strappo È un gioco di battaglie sia schermaglie che battaglie fra eserciti Modalità campagne e quant'altro Perché oggi voglio fare questo video su Age of Sigmar In particolar modo sul regolamento Perché il regolamento di Warhammer 40.000 Della non edizione, non la decima che uscirà poi Spero a breve, entro giugno, entro fine giugno O comunque dovrebbero annunciare l'uscita Io pensavo che fosse un gioco particolarmente non complicato Però complesso come il 40.000 Dove aggiornamento dopo aggiornamento Codex dopo codex Sono andati ad appesantire un gioco Che inizialmente nella sua versione principale La nona Era bello snello, bello veloce Sicuramente molto più dell'ottava Adesso abbiamo dovuto spostarla Perché era impossibile Mi rincorreva il segnalibro Del manuale E se che dicevo Pensavo che fosse un gioco molto più complesso Invece ieri sera Che poi lo porterò anche sul canale Vabbè ieri sera Quando vedrete questo video Sarà magari settimane fa Comunque abbiamo fatto la prima partita di prova E abbiamo fatto gli Orruk Gli Orchi Che li tenevo io Contro i Sylvanet Che li teneva il mio amico Manu E devo dire che la partita È, vabbè Come prima partita nostra di Age of Sigmar Giustamente è durata Magari quelle due ore e mezzo Tre ore e troppo Per una partita Settecentocinquanta punti Ma perché è normale Se andava un po' a vedere il manuale Per i punti comando Per l'azione dell'eroe E soprattutto per le caratteristiche Dell'unità Perché vi ricordo Che ciascuna unità Ne prendo una a caso Della sua World Scroll Come vedete qui ad esempio I cavalieri Vexillor Vedete che ogni unità Sulla scheda Ha le sue caratteristiche Quindi attacco Per colpire Per ferire Punti ferita Hanno il loro coraggio Hanno il loro tiro salvezza Però poi qua sotto Tutte queste cose Belle scritte Che sono tante Le dovete leggere tutte Perché sono l'abilità Della vostra truppa E la vostra truppa Potrebbe avere La vostra unità Due, tre abilità Uniche Segnate qui E magari Nel caso fosse un wizard Un mago Avrebbe anche Le incantesimi Segnate da questa parte Quindi comunque Le cose da leggere Sono un po' Non puoi arrivare sul campo Che schieri qualcosa E sperare di tirare il dado Come Ad esempio Nel vecchio Warhammer Fantasy Vecchio mondo Che spero riuscirà Dove Sapevi che i fanti Tiro per colpire Tiro per ferire La cavalleria Uguale Ma poi abilità A parte Breton La formazione a lancia Non ce ne avevano Quindi comunque Invece qui Magari ciascuna unità Ha due barra tre Cose da sapere E quando c'hai Cinque, sei unità Sul campo Iniziano ad essere Insomma Una decina Quindicina Di cose da sapere Quindi è normale Che ogni tanto Ti vai a riprendere La wall scroll E tre le leggi Però a parte questo Ho voluto provarlo Perché ho detto Io Stiamo organizzando Dei tornei Su Wargame E ho detto Voglio trovare Il regolamento Perfetto O meglio Il regolamento Più consono Sia a me Che agli altri giocatori Che sono al tavolo Allora Si è provato Diverse battaglie One page rules Che io come regolamento Adoro Ora vi voglio dire Differenze da questo Cioè Positivi e negativi E poi ho detto Voglio provare Visto che ci siamo Proviamo anche Age of Sigmar Perché io adoro La GV Per me è l'azienda Senza Senza mezzi termini Di miniature E di wargame Migliore del mondo Quindi proprio a livello Di collezionismo Perché c'è gente Li compra O non ci gioca Nemmeno Li dipinge E basta Quindi a livello Di collezionismo Sono i migliori Ma proprio A mani basse In tutto il mondo Ho detto Non ho mai Ho giocato a tutto Di loro Ho tutti i giochi Tutti i regolamenti Age of Sigmar Perché non mi garbava Perché non mi garbava In questa ambientazione In questa ambientazione In questo regolamento Vado a fare Ci sono i punti comando Punti comando Oltre alle cose Che devi sapere Sulla scheda Devi sapere anche Ogni turno Ogni round Quale punto comando Puoi usare Perché l'azione di movimento Ha le sue azioni di comando I suoi stratagemmi La fase di tiro Ne ha altre La fase del corpo a corpo Ne ha altre La fase di Check del morale La fase di shock Ne ha altre E la fase dell'eroe Non solo Ha i punti comando Della fase dell'eroe Ma anche i poteri dell'eroe E le magie O Le vocazioni Del prete Quindi comunque Le cose da sapere Sono un po' Ma io vi assicuro Che già dopo il terzo turno Si andava speditissimi Quindi comunque È un gioco Tant'è vero Che il regolamento Di base Questo è il regolamento Espanso Terreni Battaglie Modalità campagna 150 pagine di lore Vi racconta tutto E anche di più Sull'ambientazione Che tra l'altro La storia scopriendo Anche abbastanza carina Preferisco 100 volte il vecchio mondo Però comunque Non mi fa più Diciamo Schifo Come prima Ma era uno schifo Dettato dall'ignoranza Da poche informazioni Messe insieme Che mal andavano a cozzare Invece ora che la storia Immontando un pochino È anche interessante E quindi È un manuale Che ha dentro tutto Ma il regolamento Di base È gratis Avete capito bene Il regolamento Sul sito ufficiale Della GV Tradotta anche in italiano È il core book Da 40 pagine Per giocare Comprate le miniature E giocate È gratis Quindi non dovete Se non volete Le regole aggiuntive Ovviamente Compratelo Perché c'è tanta roba in più Però Potete prendere anche Il regolamento gratuito E farvi Una partita Direttamente Con quello lì Quindi ho detto Ma perché no Proviamolo Poi invece che avere Unità adattate Al regolamento Di one page rules Usavamo Quelle vere e proprie E sì che ho detto Facciamo una prova Proviamolo un po' E ne sono rimasto Talmente Tanto soddisfatto Che per il prossimo Torneo Che faremo Ho deciso Abbiamo deciso Alla fin fine Di non giocare più A one page rules Ma di fare un torneo Direttamente con Age of Sigmar Perché ci è piaciuto Veramente da morire I punti di forza Di uno e dell'altro One page rules E più immediato E si muovono le unità Che mi piace più Di one page rules Ammetto Si muovono le unità Alternate Quindi Te muovi la tua Io muovo la mia Te ne muovi una delle tue Io ne muovo una delle mie Age of Sigmar No Te prima fai tutto Il tuo turno A parte la fase di combattimento Che è quella alternata Però te prima fai tutto Il tuo turno Arrivato nella tua fase Di shock Finisce Inizia il mio turno E poi faccio tutto io nel mio Quindi io nel mio Mi muovo Tiro Carico E faccio il corpo a corpo Tutto nella mia E te sei lì che devi aspettare Ovviamente Però Puoi fare anche le tue Contromosse Perché ci sono alcuni Punti comando Che possono essere utilizzati Nella fase avversaria Soprattutto come Disperdere incantesimi Perché se nella fase Dell'eroe e dell'avversario Un eroe tira Un mago Tira un incantesimo E te hai un mago E 30 pollici di distanza Può provare a disperderglielo Nel turno Suo Quindi agendo direttamente Nel suo turno Mentre invece di là No Perché di là Non ci sono la fase di movimento La fase di tiro E tutto insieme Ti muovi Ok mi muovo e tiro Marcio Non tiro E ne carico Carico Ti arriva un corpo a corpo Ma lo fai direttamente Appena muovi l'unità Su One Page Rules E quindi È una cosa che preferisco Perché non devi stare due ore Così a guardare L'avversario Soprattutto se è particolarmente Lento nelle mosse Ma come lui ha fatto la sua Te fa la tua Anche perché Io La seconda battaglia Che ho fatto Degli orchi contro i Sylvanet In 5 round Non ho mai Vinto L'iniziativa del turno La vinceva sempre mano Il mio avversario 5 volte su 5 Quindi dovevo sempre aspettare Io non ho mai caricato Mai Dovevo sempre aspettare Le sue di cariche Perché muovendo per primo Ma arrivava ancora il corpo a corpo prima Avendo fatto Tattiche ben migliori Della mia Quindi alla fin fine Perdere Perdere l'iniziativa del turno Potrebbe già Portare dei problemi Però ovviamente Il bello è che Poi quando Nella fase di combattimento Te mi attacchi Sì ma io ti rispondo Quindi c'è anche La risposta al combattimento Ed è una cosa Secondo me Spettacolare Volevo fare questo video appunto Per annunciare Anche il torneo Di Age of Sigma Che arriverà E devo ancora un po' Vedere che esercito Utilizzare Perché sono molto portato Verso o gli Stormcast O verso Nighthound Che li adoro Veramente da morire Però Anche se il Vanette Non mi dispiacerebbero Quindi devo fare un po' Una scelta Vedere anche gli altri giocatori Che esercito Vorranno fare E il prossimo torneo Sarà direttamente Su quello lì Io Assolutamente Ancora una volta Se volete acquistare Roba della GV O anche soltanto Il regolamento Di Age of Sigma Dovete andare Sul sito Del nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola Che non soltanto Vi vende tutto il catalogo Della GV Al miglior prezzo Sul mercato Ma Ricordatevi anche Che se il prodotto È presente Ma bollino rosso È finito Oppure proprio Non è in lista Quindi se cercate un prodotto E non esce manco in lista Perché non c'è nel catalogo Mandate una mail Al supporto Della Gioco Libreria Semola A Corrado Al proprietario E fatevi presente Che arrivate dal mio canale Dal canale di Coridan Lui ordina Se è reperibili Un gioco di 20 anni fa Warhammer Quest Non ve lo trova Però se è reperibili Vi trova anche Giochi Fuori catalogo Quindi un prodotto Che lui manca ordinato Per il suo negozio Se lo volete Ve lo ordina Direttamente Se si trova Quindi ordinate Tutto quello Che vi viene in testa Anche che non trovate Sul suo sito E per ogni acquisto Usate sempre il codice Discount Coridan 7 Tanto lo trovate anche In descrizione Tutto scritto maiuscolo Discount Coridan 7 Per avere uno sconto Del 7% E per spese superiore A 79 euro Consegna Il Corriere Gratuito in tutta Europa Lo ordinate E nel giro di 24 massimo 48 ore Vi arriva a casa Gratuito il Corriere Quindi una specie Di Amazon Prime E non pagate Assolutamente niente Il servizio di gioco Libreria Semola È sempre eccellente Io ragazzi Vi ringrazio Per aver guardato Questo video E chi non l'avesse Ancora provato E fosse scettico Perché anch'io Vengo da Warhammer 40.000 Ma come regolamento Mi sembra un po' Troppo semplicistico Oppure Ma questi Stormcast Sono gli Space Marine In versione fantasy brutta No Ragazzi Vi assicuro di no Avevo fatto anch'io Gli stessi errori Che fanno tanti Mi ci sono messo Ho provato tre partite O mi sono diventato Da morì E infatti il prossimo torneo Lo faremo direttamente Ad Age of Sigmar Quindi provatelo In attesa Della decima edizione Di Warhammer 40.000 Su cui farò Ben più di un video E per me È veramente Passato a pieni voti Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video Ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre Di iscrivervi anche Al canale Facebook Al canale mio Di Live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano Troverete la programmazione Aggiornata Con tutte quante Le live del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre La programmazione Aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi Soprattutto ai social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao alla prossima